Sì, è conclusa anche l'ultima giornata dello Spring 2 HSM ZTL, una partita avvincente, conclusa soltanto ai rigori, abbiamo due protagoniste in campo, da una parte Lella per HSM, dall'altra parte il portiere Berini per le ZTL, partiamo dalle HSM che si sono arrese soltanto ai rigori, Lella, una partita che sembrava in controllo fino a un certo punto della partita, poi due reti all'ultimo secondo delle vostre avversarie e poi avete perso i rigori. Il calcio è strano, Berini, eroina della serata, è parato due rigori, soprattutto l'ultimo, hai strozzato letteralmente le urla HSM. Fortuna, mettiamola così, corre anche quella, contro i rigori. Adesso ragazzi vi faccio una domanda a conclusione dell'intervista, ora sapete già gli accoppiamenti perché HSM si è classificata terza, affronterà le Barbarians che si sono classificate secondi, mentre ZTL come seconda affronteranno le 12 blu, allora un pensiero sulle prossime avversarie e le Barbare. Io faccio in grande, in quel lupo la mia squadra, ovviamente ce la metteremo tutta come sempre. Sì, pensate di vincere? Speriamo, pallone rotto. Ah, molto serapica, Lella. In senso, io spero bene per me, spero in una vittoria e vincere la prossima partita. Invece voi affronterete le 12 blu, seconde classificate, un grande orgoglio, comunque era un girone molto molto combattuto, chissà la prossima. Eh sì, esatto, però noi giochiamo per divertirci, quindi siamo pronti gatti, perché alla fine non ci interessa quanto vincere. Noi giochiamo come squadra per divertirci. Va bene, se la vittoria arriva però... Esatto, meglio, assolutamente meglio, se arriva ok. Va bene, grazie ragazze, buona docce e buona serata, grazie mille, ciao. Ciao ragazzi.